Buonasera a tutti, benvenuti a questo primo incontro del ciclo dei mercoledì con la storia fatti qui alla La Terza. In realtà, come abbiamo già detto in altre occasioni, questo incontro è frutto di un rapporto che la La Terza ha con il Centro Studi Nervano Svevi e anche in particolare con il professor Vicino. Purtroppo abbiamo sperato fino alla fine che il professor Vicino fosse con noi, abbiamo avuto notizie alterne, ma purtroppo per motivi di salute non potrà essere con noi stasera. Diamo il benvenuto al professor Hubert Ruben dell'Università di Lecce e per il professor Ruben un ritorno a casa perché in realtà il professor ha pubblicato un libro con La Terza, che è Ruggero II di Sicilia, un sovrano tra l'Oriente e Occidente che è del 99, un po' di tempo fa, un libro che ha avuto anche diversi premi e riconoscimenti e quindi un ritorno qui dalla Terza del professore che però ci presenta un libro di un'altra casa, noi siamo contenti perché il libro, siamo anche una libreria e quindi il libro ha avuto già ottimi riscontri anche a livello di vendita, credo che inserendo sia cosa non facile abbinare l'agilità della proposta con i rigori di contenuti e quindi cosa non semplice, non facile, non comune che penso sia riuscita molto bene con questo libro e quindi vi invito tutti quanti a guardare, ascoltare nel nostro incontro per come ve lo proporremo e naturalmente a leggerlo perché è veramente una panoramica completa sulla figura di Federico II. Abbiamo qui il professor Violante che ha introdotto diversi altri incontri più alla Terza che speriamo di avere sempre qui con noi presente perché è un altro nostro punto di riferimento e dirgli il progetto, penso che le persone più presenti lo conoscano, è un progetto che nasce con il professor Licinino e tutto il gruppo, lo splendido gruppo che lui ha creato all'università e però quest'anno si arricchisce di due cori che sono appunto la libreria La Terza e il liceo Orazio Flacco. Gli incontri si alterneranno in queste sedi, una volta saranno qui alla Terza e poi invece si alterneranno appunto nella sede del Flacco che ci dà la possibilità di coinvolgere anche un pubblico di giovani, cosa che è naturalmente molto importante. C'è un gruppo di giovani che anima questo progetto di giovani, giovanissimi ricercatori, persone universitari vicini al professor Licinio. Speriamo di trasmettere questa passione anche ai ragazzi del liceo e ai ragazzi del Flacco. Allora iniziamo il nostro incontro, inizia il professor Bianco. Buonasera a tutti, grazie, un saluto in particolare al professor Ruben e a tutti voi da parte del professor Licinio, il direttore del centro studi di Ormanno Sveli che ha dato vita a questa iniziativa, la seconda edizione dei mercoledì con la storia e ringrazio naturalmente la libreria La Terza che insieme con l'inizio Orazio Flacco ha dato la possibilità ai relatori di confrontarsi con il pubblico su temi sollevati dalle loro pubblicazioni e da temi particolarmente importanti a cavallo tra storiografia e vita pubblica. Il professor Ruben è ordinario di storia medievale presso la facoltà di beniculturali dell'Università del Salento, direttore del centro di studi della storia dell'ordine antiotonico nel Mediterraneo e direttore della collana ACTA Antiotonica, è membro del comitato scientifico del centro di studi del Consiglio scientifico dell'Istituto Storico Germanico di Roma e ha all'attivo numerosissime pubblicazioni per quel che riguarda i volumi Maria La Terza ha ricordato Luggero II di Sicilia, un soldato tra Oriente e Occidente ma molto importanti sono ad esempio il Medioevo monastico meridionale tra Roma e Palermo, aspetti e momenti del mezzogiorno medievale L'abbazia di Venoso è monachessimo nel mezzogiorno a Normano Svero pubblicato in Germania Normani tra nord e sud, immigrazione e acculturazione nel Medioevo del 2003 edizioni documentarie tra cui ad esempio quella dei documenti per l'amministrazione dei Castelli di Federico II per l'ultimo d'Angio dall'ascito di Adorstano e oltre 150 tra saggi e quella delle di volumi qui questa sera presentiamo il suo ultimo volume appunto Federico II, imperatore, uomo, mito dirò pochissime cose perché appunto c'è una il professor Ubel ha preparato un'illustrazione della 10 domande su Federico II e quindi mi limito semplicemente a ricordare che il volume pubblicato appunto con il burino è la traduzione italiana del volume del 2008 pubblicato in Germania la traduzione è stata curata dall'autore stesso con la collaborazione di Francesco Filotico e si presenta tripartito appunto come il sottotitolo lascia intuire l'imperatore e quindi il capitolo che riassume in maniera estremamente densa e interessante la storia politica dell'imperatore dominata da questa contraddizione tra la concezione dell'impero e della sacralità dell'impero e invece il carattere universale della potestà politica il segno con cui interpretare la storia politica dell'imperatore e la sua parte positiva e le contraddizioni che la porteranno poi agli esiti che conosciamo il secondo capitolo invece riguarda l'uomo e appunto parte dall'infanzia dalla gioventù di Federico II molto spesso, ovviamente non solo in questo capitolo ma anche nel primo e nel terzo sfatando alcuni stereotipi anche conti, un giorno di fine conta sulla vita e sulle opere di Federico II per esempio quella che forse molti di voi avrà in mente cioè quella dell'infanzia di Federico II libero tra i piccoli di Palermo che porta con sé nella sua esperienza politica e umana impronta il ricordo di questa infanzia selvaggia in realtà appunto niente di tutto questo fa pensare niente delle fonti fa pensare a questo e i paragrafi si susseguono sui rapporti tra Federico II secondo le donne e i figli la vita di corte gli aspetti religiosi o quanto che possiamo dire appunto della religiosità dal punto di vista personale di Federico II è un paragrafo molto interessante come dato da immagini naturalmente sull'iconografia sulle testimonianze le peraglie e dell'aspetto fisico di Federico II che è un tema che talvolta localmente dà abito a polemiche spesso non del tutto pretestuose sulla autenticità o meno di alcune testimonianze appunto iconografiche dell'imperatore e infine appunto un capitolo che diciamo è inusuale per una biografia per un volume di storia l'aspetto mitico che riguarda il mito di Federico II mito che l'imperatore stesso alimenta in vita specialmente nella nella contesa propagandistica e anche militare che appunto lo oppone ai portefici e Uben prosegue l'analisi della costruzione del mito a partire appunto dalla sua vita fino ad arrivare ai giorni nostri con il punto di svolta che possiamo collocare tra 800 e 900 con l'attività di grandi intellettuali come Nietzsche per esempio che riprende e ribalta disegno alcune definizioni che noi stessi ci portiamo dietro come bagaglio su Federico II c'è per esempio l'immagine del primo uomo moderno che in realtà l'originato da Burkhardt era disegno negativo invece lo percepiamo del titolo resciato adesso e lascio la parola al professor Uben semplicemente poi ricordando che in poche pagine prima della trattazione della materia di Federico II il professor Uben ci ci dà una lezione di metodo storico da storico che si è dovuto confrontare con un problema cioè quello della biografia di un personaggio così unico di sfacendatura e problematico come Federico II e nell'introduzione appunto che vi invito caldamente a leggere e che invito gli studenti in particolare a leggere Uben traccia una piccolo prontuario di riflessione tra i rapporti tra storico tra storie e mito appunto tra fonti interpretazione in quanto oggettiva in quanto soggettiva possa essere una debba possa essere la lettura di uno storico contemporaneo delle fonti il problema della biografia appunto di trattare una biografia di un personaggio di un individuo che noi possiamo conoscere esclusivamente da fonti spesso lacunose spesso parlamentarie tutte orientate dal punto di vista ideologico e politico e naturalmente il confronto con la storiografia che appunto nel caso di Federico II costituisce un problema perché non si tratta di una storiografia asentica ma appunto così come l'interpretazione delle fonti come le fonti stesse profondamente permeata della della cultura dell'epoca in cui il biografia di Federico II e i lavori su questo del mondo sono stati prodotti e infine una conclusione Federico II nel contesto europeo che è la chiave diciamo interpretativa di estremo equilibrio e rigore che il professor Lupin ci propone ma lascia la parola a lui e di nuovo grazie per essere intervenuto grazie ringrazio anche il collega Violante che già ha anticipato alcune cose come la impostazione tre parti tra dove uomo unito che ho scelto proprio per non spiegare la solita biografia che comincia con la nascita e finisce con la morte ma per fare questo appoggio nuovo di fare prima una parte della storia politica liberatore poi l'aspetto dell'uomo che è molto difficile perché noi abbiamo relativamente poche fonti ed è molto difficile di capire qualcosa dell'uomo più andiamo indietro nel tempo perché per l'epoca di Federico II per esempio non esistono tutte biografie non esistono destinanze personali che potremmo analizzare come invece lo possiamo fare con personaggi moderni o contemporanei ma abbiamo solo delle fonti monache documenti eccetera che leggendo tra le righe possiamo cercare di capire qualcosa del personaggio ho cercato cercherò di spiegare così alcuni aspetti del libro facendo dieci domande dentro fanno anche capire l'impostazione del libro cioè comincio con chi era Federico poi che ruolo ha avuto nella storia tedesca italiana rapporti con Milano e la Liga Lombarda questa sarebbe la parte politica liberatore poi l'uomo come era nel privato in virgolette sempre per quanto è possibile capire che interessi puntuali aveva il problema particolarmente difficile della bellicità era credenza arte o eredico l'aspetto fisico che è una cosa che noi oggi ci interessa che invece non vedremo che il libro era di poca importanza e poi la terza parte se vogliamo così storiografica cioè il mito come è stato visto in Germania come è stato visto in Italia e anche naturalmente le differenze perché è stato visto in un modo di Germania in Italia in un altro e alla fine quale è oggi il mito storico su Federico II quindi cominciamo con il personaggio il personaggio Federico II la sua storia politica si comprende se si veda appunto di chi è discendente cioè lui unisce nella sua persona le due dinastie degli Svedi un Stauf imperatori del sacro romano impero e i normali con a capo Ruggero II Ruggero di Altravilla re di Sicilia Federico II è appunto un re dei romani cioè re di Germania il titolo di re di Germania all'epoca non esisteva ma si diceva re dei romani per far intendere che il re tedesco era il futuro liberatore del sacro romano impero e quindi lui è un imperatore romano tedesco di quanto figlio di Enrico VI figlio di Federico Barbarossa però se vediamo sotto scritto re di Sicilia imperatore romano tedesco re di Gerusalemme qui si vede invece la particolarità cioè che lui nella sua persona unisce anche il regno di Sicilia eredita il regno di Sicilia dalla madre in Costanza di Alcabilla e attraverso poi un matrimonio eredita anche la corona del regno di Gerusalemme quindi tutta la politica il problema politico è condizionato da questo problema di dover governare un impero inenso che andava dal mare del nord fino a Gerusalemme se vogliamo così e questo per i mezzi limitati del tempo del miglio dove si andava a cavallo c'erano macchine arriere eccetera le comunicazioni erano estremamente lenti quindi questo era un problema quasi impossibile di governare un impero così grande e vedremo vediamo poi anche che Federico fa poi una scelta cioè fare una scelta di occuparsi più del regno di Sicilia quindi come sapete Federico II passerà molto più tempo in Italia che in Germania e la Germania a parte un periodo di otto anni in cui duite anche in Germania la Germania la lascia sostanzialmente al governo del figlio del figlio Enrico VII che poi come vedremo è un personaggio o una persona anche se vogliamo così tragica che finisce a suicidarsi alla fine mentre Federico si concentra poi sul regno a una concezione dell'impero o della chiesa in cui il Papa e l'imperatore devono collaborare e sono più o meno sullo stesso livello perché anche l'imperatore è investito nel suo potere da Dio e quindi per l'imperatore queste tese del Papa di poter giudicare l'imperatore non sono accettabili per questa vecchissima presentazione prima di fare qualche considerazione io lascerei la parola a tutte le domande dubbi temi ricordo Federico secondo il ruolo di abbiamo detto è stato per la maggior parte del tempo del Soregno del vecchio d'Italia voglio chiedere se è vero secondo alcuni che abbia contribuito a spezzare i germi diciamo delle libertà prime libertà delle città comunali non comunali però le città meridionali diciamo che si stavano avviando un po' come quelle del nord però il tipo di legislazione approvata appunto istituita da Federico II abbia contribuito un po' diciamo a spezzare questo tipo di libertà sì grazie per questa domanda perché è un argomento importante che non riguarda solo le città però ma anche tutta la questione meridionale perché si è detto Federico II la colpa di Federico II è sia di aver soppresso questi sviluppi in direzione di l'autonomia delle città ma anche che Federico II avrebbe sviluppato l'economia del regno di Sicilia portandolo praticamente con le sue guerre con le tasse che alla fine avrebbe disanguato il regno e con questo è una tesi che si sente conditata io penso che non sia così cioè che la risposta deve essere più di vero differenziata perché il problema delle città del mancato sviluppo comunale se vogliamo così delle città del meridione infatti innanzitutto già all'epoca dei normali perché all'epoca dei normali noi abbiamo le città del mezzogiorno che sono inserite in un regno in un regno di Sicilia che è abbastanza centralizzato e che controlla le città per cui se a volte è detto poi va bene facendo il confondo con l'Italia del no qui c'è un nucleo del problema della questione meridionale io penso che il confondo non sia stato opposto bene perché se invece noi confondiamo le città dell'Italia meridionale con le città di alte monachie cioè le città francesi spazzioni tedesche eccetera vediamo che qui la situazione è simile cioè non possiamo l'Italia del nord i comuni sono una situazione eccezionale per una serie di fattori la Padania e la Lombardia insieme con le Fiandre sono due regioni in cui le città hanno uno sviluppo straordinario che però non si può diciamo ridurre questo fatto solo al fattore politico perché anche nel regno di Sicilia c'era una certa autonomia anche se poi bisogna dire chiaramente questo sarebbe poi adesso come dire non dovrei neanche esagerare nell'altra direzione sicuramente lo sviluppo delle città dell'autonomia non è stato agevolato né da Normanni né da Federico II però questo non significa poi come anche la politica ce le tasse noi abbiamo queste tasse che sono a un certo punto veramente pesanti la gente si lamenta però se la gente si lamenta delle tasse non significa sempre che le tasse sono veramente pesanti perché nessuno vuole pagare le tasse e come questo ci si lamenta bisogna vedere se veramente le tasse sono pesanti o no e quello che noi possiamo constatare è che quando gli angiui ereditano il regno di Sicilia da Federico II dopo tante guerre dopo tanti problemi ereditano un regno che è ancora uno dei più posteri dell'Europa quindi significa che la politica federiciana sicuramente è stata anche di tipo fiscale perché chiaramente le guerre che ha condotto eccetera hanno pesato sulle casse dello Stato però non significa che poi avrebbe come dire spuntato del tutto il periodione causando poi l'impoverimento cioè la questione della questione nazionale come sapete è molto complesso e gli studiosi discutono da generazioni cioè c'è sempre qualcuno magari ha voluto già trovare le radici nel basso impero poi qualcuno ripoga le normazioni poi qualcuno dice no e invece è un problema del Cinquecento quando cambia vuol dire la politica globale diremo oggi quindi è un problema molto complesso e sarebbe almeno riduttivo insomma di attribuire questi problemi a Federico II o ai normali invece io penso sia Federico II sia i normali invece hanno inserito il regno di Sicilia in giro europeo cioè se vogliamo così come dicevo anche Federico II avvicinato l'Italia meridionale al resto dell'Italia e quindi non sembra che questo sia una politica del punto negativa chiaramente non possiamo neanche come dire noi cioè un imperatore medievale poi non faceva una politica come un politico moderno la dovrebbe fare almeno in teoria cioè fare una politica per il bene comune ma l'Iperatore mi chiamava fa vuol dire la sua ideologia la sua concezione di vero e quella se lui vuole fare queste guerre deve fare queste guerre e se poi diciamo ci vanno anche di mezzo un po' i sudditi e così ecco è una mentalità diversa lei ha parlato tra gli interessi e le cose con l'astrogomia e l'astrologia vorrei sapere se lì per caso ha approfondito il discorso esoterico infatti ci sono dei studi che parlano di segni particolari del castello del monte non so questi aspetti esoterici quanto riguarda gli aspetti esoterici io mi sono occupato da mi occupo da parecchi anni dei castelli di altri argomenti e devo dire io tutte queste teorie esoteriche le ho per dire le ho lette le conosco però non ho mai trovato dei riscontri che mi avessero convinti ecco io tutte le teorie esoteriche su castello del monte anzi penso che si può dimostrare che sono assolutamente infrontate come anche non so ci sono teorie esoteriche relativi che sono io a posare con gli ottanti di cui sono occupato un po' dei templari ecco io lì non secondo me con queste cose esoteriche si traspongono delle cose moderne in cose medievali dove non ci sono un discorso diverso è quello dell'astrologia ecco quello dell'astrologia invece è un discorso anche della superstizione di queste cose questo è un aspetto che fa parte della mentalità medievale che per noi oggi è difficile è difficile da capire cioè nel testo qui che citavo di Michele Scoto è pieno di queste cose dove dice se uno stavotisce se uno che è gravamente ammalato ha letto stavotisce una volta significa che guarisce se stavotisce due volte significa che muore e così via ci sono tante altre cose che a noi sembrano ridicole che però sono interessanti per capire la mentalità o anche tutti i segni ad esempio se passa un uccello e si sente così significa che se uno deve fare un affare la fara andrà in porto e così via c'è come non so il tanto vero che attraversa la strada però queste sono cose che fanno parte della mentalità e lì il medioevo è pieno diciamo di cose superstiziose astrologiche eccetera anche se poi come dire gli autori medievali di Tene Scoto ritiene che l'ascologia abbia anche un fondamento scientifico e quindi qui il colfine esotico però il discorso esoterico è un altro buonasera professore si è spesso parlato appunto del rapporto di tolleranza Federico II e comunque gli altri credi religiosi per esempio l'islamismo o comunque l'ebraismo volevo fare due domande la prima è qual è diciamo la verità sul processo fatto agli ebrei di Fulta e l'altra domanda invece come ha fatto appunto Federico II a diventare re di Gerusalemme pur non combattendo quindi instaurando solo trattative diciamo diplomatiche con il re Hamid anzi anche questa è una domanda dice il santo anche se devo dire diciamo a un'idea ha usato una parola pericolosa diciamo la verità cioè la verità io non la so diciamo lo storico secondo me non può dire c'era a volte per me si usa così in modo di dire come era veramente insomma però i nostri giudizi sono tutti soggettivi cioè quello che dico io che ho scritto io può essere che 10 anni fa 5 anni fa 10 anni un altro scrive un altro libro e arriva a conclusioni diverse cioè sono delle valutazioni soggettive anche se non sono arbitrarie ecco perché il limite da soggettività arbitrarietà è una cosa diversa dire la cosiddetta tolleranza ecco questo è un problema perché innanzitutto il nostro termine tolleranza non è non è adatto al medioevo perché è un termine che deriva dall'epoca della riforma protestante più ancora dal dominismo e tolleranza significa di dare lo stesso valore a altre opinioni a altri credi ad altre religioni questo nel medioevo non c'è e non c'è neanche Federico però c'è una cosa che oggi potremmo dire potremmo dire tolleranza pratica cioè di tollerare ecco tollerare è già diverso si può usare il verbo secondo me cioè di dire si concede per esempio la libertà di culto si rispettano altre religioni come l'ebraismo e l'islam questo c'è però nel sistema medievale anche nel regno normando di Sicilia c'è però la religione cristiana che è la religione di stato che sta a un punto più alto anche se si tolleranno le altre religioni ed è un po' questo concetto che esiste nell'islam cioè nell'islam esista anche la possibilità diciamo di tollerare gli appartenenti alle religioni del libro cioè cristiani e gli ebrei però in uno stato islamico non possono aspirare agli stessi diritti cioè rimangono sempre oggi però sono categorie nostre noi diremmo cittadini di seconda categoria e un po' così è anche nel medioevo con i musulmani e con gli ebrei che nel regno normano di Sicilia cioè l'Italia di regionale la situazione degli ebrei e musulmani è stato più vuol dire migliore che in altri parti dell'Europa perché qui nel Mediterraneo c'è una lunga tradizione di convivenza tra culture diverse mentre in Germania in Francia dove non c'è questa tradizione non è un caso che durante le prime vociate i boro contro gli ebrei sono scoppiati prima in Francia e in Germania perché lì non c'era questa abitudine a convivere con altre popolazioni e Federico un po' eredita questa mentalità e sicuramente ha anche un interesse secco per la cultura araba cioè per la cultura araba e anche per la cultura ebraica bai bai bai